Ho girato e rigirato Senza sapere dove andare Ed ho cenato a pezzo fisso Se tu racconto il dolore Attaccate voi e poi vi raggiungo, vai! Tu come stai? Di Milano! No! 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 Paolo! Oh! Paolo, è per te! No, ma non ce lo so per nessuno! E' messa che c'è, dai, invece! Dai! Chi cazzo è? Pronto! Sono scappata! Sono tornata! Tu come vivi? Come ti trovi? Chi viene a prenderti? Siamo i più belli noi In una sfogata...